Salve, buongiorno, sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960, significa che il 16 maggio compirò 60 anni, grazie, gli auguri così, vabbè. E non niente, adesso quindi i 60 anni non possono uscire, io non ce li do ancora, quindi io in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire, ma noi 60 anni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa, per cui se dicono che i 60 anni devono stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio, siamo a rischio e siamo persone da proteggere. Noi andiamo protetti, perché siamo un po' come il panda, come il cerco piteco, come il colibri dell'Himalaya, siamo in via di... No, estinzione un attimo, attenzione no, però, 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 non usciamo, dicono che non dobbiamo uscire, non usciamo, stiamo a casa. Vabbè che i 60 anni di oggi non sono i 60 anni di una volta, siamo molto più arzilli, diciamo così, però, rimaniamo a casa. Io comunque dal 4 maggio fino al 15, un'uscitina me la farò, con la mascherina, con lo scafrando, con il passapontagna, con la muta, con tutto. Io addirittura, pensate, levo il pesce rosso dalla boccia, levo l'acqua e mi metto la boccia del pesce rosso, così, in faccia. Quindi, amici 60 anni, rassegniamoci. Lo so, lo so, che voi pensavate di essere ancora giovani, non è così. Entriamo nella cerchia degli anziani a rischio. Quindi, io mi rivolgo a alcuni amici che conosco, ad esempio, Ligabue, non puoi uscire, manco tu, sappilo. Pensa a baglioni venditi, questi proprio, vieni, chiusi, chiusi. Vabbè, io rimarrò a casa, a meno che qualcuno non dica che, no, 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 i 60 anni possono succedere, dai, 61, 62, 63, toh, dai. Ok? Ciao. Grazie. Ciao da Fiorello, come state ragazzi? Tutto bene? E allora, ho un'idea per tutti noi, ho un'idea, visto il periodo, ma perché non siamo un po' a casa? Tutti a casa? Eh? Guarda che bello. Che è sta roba, andare in giro a fare gli aperitivi? Che brutta cosa. Andare in giro a fare le feste? Che brutta cosa. Andare in giro e trovarsi 30, 40 amici tutti insieme, appiccicati, a meno di un metro di distanza? Che brutta cosa. Invece a casa si riscoprono giochi nuovi, potete giocare, che ne so, a Monopoli, al Risico, al Mimo dei Film, potete fare il karaoke, potete giocare, potete divertirvi a casa con i vostri genitori, con i vostri parenti. State a casa che è meglio, è meglio. E evitiamo di uscire in questo periodo, evitiamo. Si sta tanto bene sul divano, vedete, guarda come sono sereno io. C'è del casismo intorno a me. Fai come me, rimani a casa. Vigolo stretto, Parco della Vittoria. Dai, è bellissimo, bellissimo.